Cosa facciamo come secondo tocco? Facciamo un rocchettone su un individuo della nostra città che non vogliamo tanto bene, quello è il Combo. Nessun passo, martedì, martedì passo, ho visto lì quei cimbi a posto, come l'impiego, a s'ampetta fra un milione, tutti i peggiati con il chauffeur, a pensavo, ma va bene così, tengo, come un recito, tengo, come un recito, tengo, come un recito, tengo. Come un recito, come un recito, tengo, come un recito, e mille metri di dato, ciò avviate poi di me ferie se ti sbatti quelle aia, truppi zeschi, tacchi, curi là, non ti preoccupa, e ti vedi che una frecuccia prima, poi a te ducchià. Cosa facciamo? 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 Tem cumbo, cumbo recite, tem cumbo, cumbo recite. Ho assuntichetta mia, mi vende a pensare se questa qui ha nulla via. Tutti quanti hanno detto che ha un po' lo stormo, come può averte legge all'Ucino. Chacrè da pipa dal governo, 37 sparò, e allora te dico me cumbo. Cumbo recite, nutre, capisciù di me cum è di pe, cu coro storto, becco aperto, dinte, vestea, raspaite, chicche, dentro a me la testa succede. Tem cumbo, cumbo recite, tem cumbo. Cumbo recite, tem cumbo, cumbo recite, tem cumbo, cumbo recite.